seconda festa dell'usb noi non dimentichiamo a taranto talzano piazza lo iucco intorno alle ore 19 sabato 29 agosto e domenica 30 agosto siamo con amedeo zaccaria circa tre anni fa suo figlio perse la vita in tragiche circostanze lì in quel dell'ilva sono passati circa tre anni dicevo ma purtroppo le vittime all'ilva continuano a esserci come e più di prima sì per questo sono tre anni che io mi sto dedicando alla sicurezza sul lavoro anche grazie all'aiuto della organizzazione usb che ci dà l'opportunità durante queste occasioni di avere incontri proprio tra i parenti delle vittime del lavoro e possibilmente anche le istituzioni in modo da poter gestire quello che è il dramma nell'ilva cioè la mancanza della sicurezza se gli operai sanno che entrano ma spesso non sanno se se riescono ad uscire a fine turno di lavoro perché viene tutta trascurata la sicurezza in nome del profitto quindi bisogna discutere con le istituzioni non bisogna dare voce soprattutto a chi non c'è più e grazie a questa festa della usb noi non dimentichiamo noi parenti vittime del lavoro vittime del lavoro abbiamo questa opportunità il gip todisco ebbe a dire giustissimamente tutto l'acciaio del mondo non vale una sola vita umana esatto però vorrei anche dire un'altra cosa durante questi anni durante questi tre anni purtroppo a mie spese sono venuto a comprendere che secondo le nostre leggi secondo le nostre basterebbe anche un rotolo di nastro d'acciaio per pagare la vita di una persona